Baldovino IV di Gerusalemme, il re Lebroso. Baldovino IV di Gerusalemme, nato nel 1161 e morto nel 1185, è stato uno dei più importanti sovrani del regno crociato di Gerusalemme. La sua figura è stata ericizzata nel corso dei secoli, e viene spesso ricordato come il re Lebroso. Baldovino era figlio di Amalrico I, re di Gerusalemme, e di Maria Comnena, figlia dell'imperatore bizantino Manuele I Commeno. Nel 1174, all'età di 13 anni, succedette al padre sul trono di Gerusalemme. All'inizio del suo regno, Baldovino era un giovane sano e vigoroso. Tuttavia, nel 1175, iniziò a manifestare i primi sintomi della Lebra, una malattia incurabile che provocava la deformazione della pelle e l'indebolimento delle difese immunitarie. Nonostante la malattia, Baldovino non si arrese. Si dedicò con passione al governo del regno e guidò personalmente le sue truppe in battaglia. Sotto il suo regno, il regno di Gerusalemme conobbe un periodo di prosperità e di espansione territoriale. Baldovino fu un sovrano abile carismatico. Era un grande oratore e riusciva a ispirare i suoi soldati con i suoi discorsi. Era anche un abile stratega e riuscì a respingere numerosi attacchi dei musulmani. Il regno di Baldovino fu caratterizzato da una serie di importanti eventi storici. Nel 1177, Baldovino e il suo mentore, Raimondo di San Giovanni, sconfissero un esercito musulmano guidato da Saladino nella battaglia di Mongisard. Questa vittoria fu una delle più importanti della storia delle crociate. Nel 1187, Saladino sconfisse il regno di Gerusalemme nella battaglia di Attin. Baldovino, ormai malato e debilitato dalla lebra, non fu in grado di partecipare alla battaglia. Dopo la sconfitta di Attin, Baldovino morì a Gerusalemme nel 1185. La sua morte segnò la fine dell'età d'oro del regno di Gerusalemme. La figura di Baldovino IV La figura di Baldovino IV è stata ericizzata nel corso dei secoli. È stato spesso ricordato come un esempio di coraggio e di determinazione. La sua storia è stata raccontata in numerose opere letterarie, tra cui il romanzo Le crociate di Stephen Ranciman e il film Le crociate di Ridley Scott. Baldovino IV è una figura complessa e affascinante. È un esempio di come la forza di volontà e il coraggio possano superare anche le avversità più grandi. La sua storia è un messaggio di speranza e di ispirazione per tutti. Il contributo di Baldovino IV al regno di Gerusalemme Baldovino IV ha contribuito in modo significativo al regno di Gerusalemme. Sotto il suo regno, il regno conobbe un periodo di prosperità e di espansione territoriale. Baldovino fu un sovrano abile e carismatico, e riuscì a ispirare i suoi sudditi con la sua leadership. Ecco alcuni dei principali contributi di Baldovino IV al regno di Gerusalemme. Ristabili la pace e la sicurezza nel regno. Dopo la morte di suo padre, a Malrico I, il regno era in preda al caos. Baldovino riuscì a reprimere le rivolte interne e a respingere gli attacchi dei musulmani. Espanse i confini del regno. Baldovino conquistò nuove terre in Siria e Palestina. Queste conquiste rafforzarono la posizione del regno e ne aumentarono la prosperità. Protesse i cristiani. Baldovino fu un forte difensore dei diritti dei cristiani nel regno. Si impegnò a garantire la libertà di culto e la sicurezza dei cristiani. Baldovino IV è una figura importante nella storia del regno di Gerusalemme. Il suo contributo ha contribuito a rendere il regno una potenza regionale. Grazie. 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 Grazie.